VENERDI DELLA TRENTADUESIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e vene il deluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte, dove si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora li chiesero, dove, signore? Ed egli disse loro, dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Picoco Le parole di Gesù nel Vangelo di oggi suonano durissime, ma sono il segreto che ci aiuta a vivere la vita come qualcosa di unico e di prezioso. Come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e vene il diluvio e li fece perire tutti. La memoria della morte o è un'angoscia paralizzante o un profondo esercizio di realtà. Infatti, se ciascuno di noi cominciasse a pensare, ad esempio, che gli rimane solo un anno di vita, farebbe delle scelte ben precise. E allo stesso tempo, se pensasse che manchino solo sei mesi, ne farebbe altre ancora più essenziali. E così via, fino a pensare che alla fine ci è dato sapere che abbiamo tempo solo oggi, e che nessuno ci dice che domani saremo ancora vivi. La memoria sana della morte rende irripetibile ogni istante della vita. Ogni bacio sarebbe dato come unico, ogni abbraccio sarebbe dato come unico, ogni torto sarebbe più facilmente perdonato, perché, davanti alla possibilità della morte, quanti avrebbero ancora il coraggio di mantenere il punto per questioni francamente banali. Ovviamente, tutto questo può sembrare eccessivamente esagerato, ma esasperare un punto di vista ci serve a capire la verità di fondo di una questione. Infatti, bisognerebbe portare sempre fino alle estreme conseguenze i nostri ragionamenti e le nostre scelte. È nelle estreme conseguenze che si capisce il vero valore di qualcosa. Vi dico, in quella notte due si troveranno in un letto, l'uno verrà preso e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà presa e l'altra lasciata. Tutto è sempre 50 e 50, non solo la possibilità di essere presi o lasciati, ma la possibilità che una malattia ci renda persone migliori o persone peggiori, che un amore ci renda meno egoisti o più possessivi, che un dono venga usato per il bene o per il male. Ogni cosa di questa vita è sempre racchiusa nel 50 e 50. Grazie.